Mantenersi in forma anche alla scrivania si può. La prima cosa da evitare è lo snacking, quello smangiucchiare per tenere lontano lo stress. Se abbiamo voglia di cioccolato e caramelle, teniamole nel cassetto della scrivania in modo da gustarli solo in un momento di vero relax e invece portiamoci della frutta fresca da tenere a portata di mano. Se poi dobbiamo anche pranzare al tavolo è meglio se spegniamo il computer, il cellulare e ci gustiamo con calma il nostro piatto unico che avremo preparato a casa con una fonte di carboidrati tipo pasto riso e della carne o del formaggio. Se poi riusciamo anche andare a bere il caffè con i colleghi quindi fare due passi e strecciarci un pochino prima di riprendere il pomeriggio di lavoro avremo guadagnato ancora di più sorriso e salute. Grazie a tutti.